ragazzi per fare una cazzo di foto mi sono incristato ecco qua e qui per terra qui discutono di vecchie che è il live motive di questo giro proseguiamo di qua terminato il primo giro attenzione fatto ci si prepara per il secondo più o meno perché abbiamo una rinuncia qui da parte di che ha fame ecco il richiamo della foresta e frank era decisissimo guardate come è pronto per il secondo giro sta già legando la bici ma ti aspetto alla riva come mai non viene scusi se non può dire che vado a prontare il tavolo a posto va bene va lasciamo la nostra puma da sola e quindi niente parto via da solo come sempre porca miseria qua eccomi qua ragazzi dopo una salita sono appena entrato in bruciolandia discesa leggera leggiadron proseguo solo solitario verso i palermini ma perché miseria mi abbandonano ecco guardate che si apre ci fermeremo qui ad ammirare si riescono a ribaltarmi un bel panorama ragazzuoli bello direi che un po che da questo trecciato non ci passa nessuno disastro fatto cameltrofi in mezzo agli alberi bellissimo spettacolo come tu ma ma adesso pare che sentire riprenda male sta a vedere che ha fatto bene gli altri andare a casa portaccio la partenza mercoledì praticamente tutta salita quasi fatto 300 metri di slivello babbia ma adesso tutto è discesa quindi di qua che sbalicata stupenda ragazzi faccio giusto cantare i grilli mulino bianco ultimo ciuccino tipo tanta salita per adesso adesso tropicale mela tropici però pare mi fermo perché adesso mi sa che è bello di qua da quando ho detto da qua è bello il cazzo tutta salitona tecnica finalmente adesso ho fatto deciso adesso un po di singolo un po di singolo un po di singolo il cazzo lo uh porca vacca o com'è l'acqua ma tutta salita cristarello porca pupazzona sono anche così preso allora che dice con cinque ore 2 mila di slivello 7 km bella quest'ultima parte comunque più difficile tecnicamente salite un po stronzette mi ricordavo assolutamente comunque qui oggi avete potuto la fiacca è tutti quanti aspettavo vi siete persi il mio cristone adesso il tatuaggio delle cesane mica tutti ce l'hanno a lei a quanto manca va bruciolandia parte 2 un peccato vedere tutto ciò ma al suo fascino ragazzi tutto questo alberi neri con sto cello mi viaggio assai comunque sono quasi arrivato ragazzuoli cazzolina forza grande storino dai cazzo dai mi sono rifornito sono dato una sciacquata giro fatto bene contento comunque ragazze volevo dire una cosa ho dato un'occhiata alla superficie tiene 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 buona quindi domani potete venire divertitevi